Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori in questo video parliamo di un grave lutto per il cinema e per il mondo delle serie tv a 89 anni ci lascia il famoso attore prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo il 22 aprile 2023 è venuto a mancare l'attore e doppiatore australiano John Humphries lo ricordiamo per aver preso parte a film come lo Hobbit ma Barry Humphries è stato anche un grande doppiatore ha doppiato tantissimi cartoni animati e serie tv film di animazione lo ricordiamo anche per aver interpretato il ruolo della drag queen in Ellie McBeal in quell'occasione interpretava il personaggio di Clay Rotoms il secondo canale di Marco Liguori con grande dispiacere ricorda l'attore e doppiatore australiano Barry Humphries scomparso a 89 anni amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti ciao 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 ciao